Qualsiasi transedico crea disordine, sono io che sono l'uomo più pericoloso d'Europa. E allora cominciano, cominciano a fare emendamenti, proposte per chiudere la rete. Sono andata la polizia oggi nell'ufficio di Casaleggia, nel nostro ufficio a Milano, perché vogliono i sterbe, perché venti ragazzi, venti ragazzi, un anno e mezzo fanno cena inferiore, hanno comunicato con la presenza al Presidente della Repubblica, il bimitendio, ce l'abbiamo solo noi il bimitendio. Che cos'è il bimitendio? Questi commenti che causavano il bimitendio al Presidente della Repubblica. Ma mi ricordo che erano ragazzi, che erano stupidaggi, io c'erano migliaia, tutti i giorni, migliaia di offese, ora scoprono la rete e vogliono chiudere perché non riescono a controllare. E allora una di queste offese di dirittendio era, ma signor Presidente della Repubblica, perché non fa un bel gesto in questi giorni e non restituisce i soldi che quando era Presidente della Commissione parlamentare e andava a Bruxelles magari tre o quattro volte al mese, prendendo un volo chat della Vergine a 76 euro e facendosi rimborsare 800 euro. E non ha commesso un reato perché la legge ne lo permetteva, ma poteva fare un gesto! E allora, a vivitei!